amici la televendita passiamo subito agli oggetti la collezione fantastici porta ghiaccio la versa brutto appartenuto a samantha fox con in omaggio modellino di fonzi sulla moto per 25 euro ve lo portate a casa telefonate 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 il secondo oggetto bellissimo anche questo la collezione è il piccio papaglia fantastico sono sei sono in titanio e oro questo costa un po di più costa un 300 ma con in omaggio questo bellissimo ventaglio dell'ottocento di feviglia ma adesso passiamo veramente ai pezzi pregiati della collezione la famiglia di quartini questo è il quartino imperiale con i quartini piccini con disegnati i cardellini per i più piccini questo è il famoso mignon vi do una dimostrazione pratica mazza è caduto è caduto ancora ma è il fascino della diretta questo vi faccio vedere come il cardellino una volta riempito il bicchiere guardate come i cardellini prendono vita una roba è emozionantissimo questi sono appartenuti alla famiglia reale francese reale francese reale francese inglese erano un po tutti mischiati ma tutte erano mazzosi vabbè comunque questa è una collezione fantastica con 5.500 euro portate a casa tutte e tre cardellini e cardellone con in omaggio la candela della patron alle prime tre telefonate e anche un chilo e mezzo di ovetti di cioccolato chiamate chiamate chiamate